In quel tempo si avvicinarono a Gesù i discepoli di Giovanni e gli dissero Perché noi e i farisei digiuniamo molte volte, mentre i tuoi discepoli non digiunano? E Gesù disse loro Possono forse gli invitati a nozze essere in lutto finché lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto e allora digiuneranno. Nessuno mette un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio Perché il rattoppo porta via qualcosa dal vestito e lo strappo diventa peggiore Ne si versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti si spaccano gli otri E il vino si spande e gli otri vanno perduti Ma si versa vino nuovo in otri nuovi e così l'uno e gli altri si conservano Già in precedenza Gesù ammoniva l'atteggiamento ipocrita dei farisei circa il digiuno Non ha senso il digiuno se ostentato Diverso invece l'atteggiamento dei discepoli di Giovanni il Battista nei confronti del digiuno A loro non interessavano i plausi della gente Ma nei riguardi di questa pratica avevano una specie di devozione idolatrica Troppo rigidi Il cristianesimo non si pone come meta della spiritualità al digiuno E nemmeno la preghiera Ma la comunione con Gesù E tutto è vissuto nella gioia Nel nostro cammino di amicizia ovviamente ci poniamo degli strumenti per convertirci a Lui In questa prospettiva il digiuno diventa liberante Libera uno spazio in noi per permetterci di crescere nella fede E da vivere con gioia Perché come l'allenamento costa fatica Ma ti permette di raggiungere traguardi nuovi Di superare te stesso Così è il digiuno Nessuna tristezza del cuore Perché lo sposo è con noi Il digiuno ci porta nel deserto A parlare con lo sposo Ci fa riscoprire quella fame e sete di Dio Nel Dio che ci chiede di convertirci Di andare verso Lui Ma quando siamo insieme a Lui Nessun digiuno e nessuna tristezza Perché lo sposo è con noi Nessun digiuno e nessuna tristezza